Credo che non si possa dire nulla sulla vittoria, l'impida è meritata della sua reganatesa. Sì, non c'è discussione, i miei ragazzi sono stati favolosi, sia limitando in fase difensiva gli avversari, il Pescara e creando molte palle e golle. Io penso che la mia squadra ha vinto meritatamente, non c'è nulla da dire. Nel primo tempo a volte la segnalazione di offside, a volte Superplizzari, a volte Riccardo Brosco, ma siete stati pericolosissimi. Nel secondo tempo avete concretizzato? Sì, nel primo tempo secondo me è ingiusto finire 0-1 perché avevamo creato 4-5 palle e golle, però chi è entrato è stato determinante. Ti dicevo anche prima, Rico, c'è un gruppo di ragazzi fantastici che salerno sempre a 2.000 all'ora, c'è un clima straordinario e questo ha fatto sì che anche su due pari, magari in modo isperato, ci credono sempre. Perciò onore a loro, io cerco di fare il meno danni possibile. La partita l'aveva pensata proprio così Pagliari, nel senso andare a colpire le lacune in fase di palleggio del Pescara, perdendo pallo e il Pescara lasciava tantissimo campo alle spalle. L'avete preso lì, l'avete colpito lì il Pescara. Sì, conosco da tanti anni Zeman, dovevamo aggredirle al centrocampo e ripartire dietro le spalle, ci siamo riusciti parecchie volte. Naturalmente molte volte è stato anche Pescara pericoloso perché è una squadra forte, con giocatori davanti veramente forti, però devo essere sincero. Sono molto felice, sono molto soddisfatto dai miei ragazzi. In studio con Massimo Profeta, Fabio Ferraresi, c'è anche Luca Di Matteo, quindi io do la linea allo studio per le domande a Giovanni Pagliari che è l'auricolare e vi ascolta. Tanti complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri. Giovanni Pagliari, qui al mio fianco come diceva Enrico, Fabio Ferraresi e Luca Di Matteo. Domanda di Fabio? Io al mister lo saluto, gli faccio i complimenti. Stamattina prima che arrivavate a Dragonara sono andato a trovare Ferrante che è stato un mio ex compagno e mi ha detto che le partite te le vuoi sempre giocare. Oggi le hai dimostrate ancora una volta e quindi sei sulla breccia come si suol dire da tantissimi anni, non per caso la partita è meritata, la vittoria. Ti ringrazio, io penso che non c'è nulla da dire sul risultato ma soprattutto sulla voglia di giocarla, io ho visto altre partite del Pescara, noi siamo qui a giocarci, abbiamo creato 6 o 7 pallegolpi, abbiamo preso una traversa, noi ce la siamo giocata perché noi ce la giochiamo così, insomma io lavoro per cercare e ci alleniamo per cercare la domenica di divertirci anche, non è che andiamo in guerra, io penso che i problemi, le guerre sono altre, i ragazzi sono strepitosi nel seguirmi e oggi veramente dopo una partita tra l'altro maiuscola con il Perugia perché anche col Perugia abbiamo creato 5 o 6 pallegol e loro hanno sbagliato il rigore, hanno avuto altre occasioni per essere sincero, però noi anche col Perugia meritavamo anche forse qualcosina in più. Chiaramente Pagliari, poi magari torno per l'ultima domanda da studio, ha tanta esperienza Giovanni Pagliari, ha tanti campionati vinti, ha una curva del Perugia che l'ha applaudita e credo che questo sia motivo di orgoglio per lei, quindi ha tanta esperienza per poter parlare, Pescara che vuole provare a vincere ha troppe lacune? Ma no, Pescara oggi ha trovato una squadra più forte, non me ne voglio ma se una re canatese è più forte del Pescara vuol dire che il Pescara non può provare a vincere senza nulla togliere alla re canatese? No, il problema grosso, ripeto, lo dicevo ai tuoi colleghi che quando si parla della re canatese viene in mente le poesie dei Deopardi, invece noi chi ci segue da due o tre anni non abbiamo dato spettacolo in tutta Italia. E allora perdere con la re canatese o pareggiare come il Perugia con la re canatese sembra un'offesa, per me, ripeto, sono dei preconcetti. Oggi, questa sera, se la re canatese si fosse chiamata Perugia o Cesena, dicevano tutti, madonna che squadra, vincere la re canatese è sumare il Pescara. Io non ci sto a sto giochino, io penso che i miei ragazzi hanno fatto una partita strepitosa. Allora, giro diversamente la domanda, appagliare una panchina come quella della re canatese, ripeto, nulla togliere alle re canatese, visto il blasone e il curriculum di Giovanni comincia ad andare un po' stretto, vuole tornare anche in Serie B con altre squadre? No, io sto benissimo a re canati, ho ritrovato la gioia da allenare, perciò ringrazio sia la società che il direttore che è un mio amico, è un gruppo di ragazzi fantastici. Io penso che la fortuna nostra è una società seria, un clima di lavoro straordinario che ho trovato e ho ritrovato le motivazioni di quando mi conoscevi tu anni addietro. Per questo qualche conoscenza piccola ce l'abbiamo, un po' di esperienza, però mi diverto molto, quello è una cosa che per me è fondamentale. L'ultima domanda è salutiamo Pagliari da studio, non so se Luca Di Matteo, Fabio Ferraresi o Massimo Profeta. No, no, intanto diamo spazio agli ospiti. Luca Di Matteo, ci mancherebbe. Buonasera mister, intanto la saluto con tanto affetto perché è il fratello del mio storico procuratore, Silvio Pagliari. Poi mi accodo con Fabio e faccio veramente... Sono tre fratelli pesanti, Giovanni, Silvio e Dino. E faccio veramente tanti complimenti perché se lo merita, perché poi conosco la vostra famiglia, siete persone veramente speciali e che comunque lei è molto sottovalutato dal mio punto di vista. E poi che campionato si aspetta dall'area canadese, da voi? Che campionato avete in mente di fare quest'anno? Noi l'anno scorso c'è stata per un punto, abbiamo perso i prof e poi il Siena ha perso tre punti. Noi, ripeto, se... Luca, se alla penultima siamo fuori dai play-out, andiamo a cena tutti a mangiare il pesce... Invita anche a noi Pagliari. Enrico sempre tu, senza bicicletta però sempre, ma noi l'obiettivo nostro della salvezza è divertirci ogni giorno della settimana e la domenica così. Altri obiettivi non ce n'abbiamo. Complimenti. Corando Grazie.